Buongiorno, avete mai sentito parlare della sindrome dell'ovaio policistico? È vero che è causa di infertilità? Ed è vero che è legato allo stile di vita e a ciò che mangiamo? Mi chiamo Daniele Deruvo, sono un medico chirurgo specialista in ginecologia ostetricia. L'ovaio policistico, innanzitutto, diciamo che cos'è? È una variante anatomica dell'ovaio, cioè dell'organo riproduttivo femminile, policistico perché contiene al suo interno un numero abbondante di follicoli, cioè quei piccoli contenitori delle cellule uovo. Quindi già mi viene da pensare per definizione che se c'è un contenuto abbondante di cellule uovo, ovvero evidentemente non potrà essere un ovaio infertile. Ma scopriamo il perché è legato ad una sindrome, quella appunto detta PCOS, o sindrome dell'ovaio policistico, che può effettivamente causare infertilità. Paradosso. Questo perché l'ovaio policistico è un tipo di ovaio che è molto sensibile al metabolismo degli zuccheri. si è selezionato durante l'evoluzione della specie umana perché nei periodi di carestia, là dove una donna con un ovaio normale, nei periodi di carestia, andava incontro ad anovularietà, cioè non ovulava più, quindi non poteva più procreare, le donne con ovaio policistico e con la sindrome dell'ovaio policistico, dimagrendo, riducendo il loro apporto, diciamo così, di carboidrati nella dieta, iniziavano ad ovulare, mantenendo quindi la specie umana in grado di andare avanti. È una patologia, è una sindrome infatti, che riguarda il 10-15% della popolazione. Se fosse stata causa di infertilità, evidentemente non ci sarebbe questa incidenza nella popolazione. A me piace pensare come avere una Ferrari a cui però si dà la benzina sbagliata. L'ovaio policistico è la donna che ha una sindrome dell'ovaio policistico, ha delle caratteristiche. È una donna che spesso soffre di acne, spesso soffre di irsutismo, cioè di peluria. È una donna che spesso fa sport o che è brava negli sport e tende a mettere su massa muscolare abbastanza facilmente. Questo però, nei momenti in cui ingrassa oppure smette di fare attività fisica o aumenta il suo introtio di carboidrati nella dieta, può andare incontro ad irregolarità del ciclo mestruale fino a diventare infertile. Ma è un'infertilità paradossa. Chi fa PMA, procreazione medico assistita, sa molto bene che sono ovai e che basta stimolare poco, anzi sono molto sensibili alla stimolazione, tant'è che hanno il problema di evitare la sindrome da iperstimolazione ovarica. Ma prima di arrivare alla PMA, una donna che abbia questo tipo di sindrome, la prima cosa che deve fare, oltre ad aumentare l'attività fisica, è quella essenzialmente di ridurre i carboidrati, cioè gli zuccheri, nella propria dieta. Quindi pane, pizza, patate, riso, tutti i prodotti da forno, purtroppo per la donna affetta da ovaio policistico e dalla sua sindrome, possono essere un problema. Inoltre si è visto negli ultimi studi come i cibi ricchi di inositolo, e vi invito ad andare a vedere quali siano, possono contribuire, associati a una dieta ipoglicidica e ad un esercizio fisico costante, possono contribuire alla riduzione della sintomatologia e alla regolarizzazione del ciclo, e quindi, in caso di ricerca prole, ad un miglior successo nel tentativo di rimanere incinta.